In un periodo in cui l'argomento più importante delle cronache senza dubbio l'emergenza coronavirus non vanno però in vacanza gli incivili. Sono infatti quasi 200 ma anche altre segnalazioni sono già in arrivo i furbetti responsabili di rifiuto selvaggio e immortalati dalle fototrappole disseminate nelle campagne della città di Andria. Per tutti è scattata la sanzione da 500 euro per abbandono di rifiuti su suolo pubblico. Il nucleo di polizia ambientale del comando di polizia locale di Andria ricevuti i report fotografici li ha identificati e sta inviando i provvedimenti amministrativi. Le rilevazioni fotografiche sono già centinaia e sono il frutto del monitoraggio su una serie di aree sensibili della città perché più utilizzate come discarica abusiva. Il monitoraggio è stato concordato con l'amministrazione straordinaria. Il fenomeno riguarda sia le immediate periferie che il territorio rurale ed il ricorso alle fototrappole è un'altra delle misure avviate già da tempo d'intesa con il corpo di polizia locale. Anche per rispondere alle tante segnalazioni fatte dai cittadini per rifiuti abbandonati, roghi di rifiuti e aree deturpate. Le fototrappole si stanno rivelando molto utili e per questo l'amministrazione straordinaria vorrebbe intensificarne l'uso visto il numero di denunce quotidiane pervenute a Palazzo di Città. Alcune delle foto poi riguardano i rifiuti ingombranti dunque non semplici sacchetti.